Ricomincia questo sabato dopo la fine dello scorso campionato e dopo il periodo invernale la nuova stagione del football americano a 9 che vedrà impegnata la formazione dei Mad Bulls Barletta nel girone H nazionale di terza divisione. La squadra si è presentata ai propri tifosi domenica scorsa a Barletta nel corso di un incontro dove sono stati ricordati tutti gli ottimi risultati raggiunti dalla squadra lo scorso anno fino alla finale nazionale di South Conference persa in ultima istanza contro Napoli e definiti i prossimi obiettivi della Rosa che ha rinnovato l'impegno, il carattere e la volontà di migliorare il risultato della scorsa stagione agonistica. I Mad Bulls avranno nella loro fila Desiderio Lemma che avrà il compito di allenare i wide receiver oltre al confermatissimo aid coach Ugo Calò. È la solita squadra, è la squadra che ha lavorato per tanti anni e quindi è una squadra che ha acquisito una notevole esperienza, un notevole tasso tecnico, è esattamente la squadra dello scorso anno, infatti non abbiamo perso nessun giocatore come di solito succede, anzi ci siamo rinforzati grazie al rientro di alcuni giocatori e di altri ragazzi che verranno da fuori, che stanno venendo da fuori e che quindi hanno aumentato il nostro roster. Tutti sanno che noi abbiamo un bel gioco sulla terra e continuiamo di continuare ad avere quel bel gioco sulla terra, poi siamo una squadra comunque molto molto versatile, non abbiamo diciamo un punto assolutamente fermo, cerchiamo di attaccare le varie squadre nei loro punti deboli che riusciamo a individuare. E se il coach ha le idee chiare le ha ancora di più il vulcanico presidente Manuel Marzocca. Noi cercheremo di, non sarà facile, ma cercheremo di migliorare la prestazione dell'anno scorso che come ben tutti sappiamo, chi ci segue, chi segue i Made Bulls, siamo arrivati in finale di conference ma non siamo riusciti a fare quel passo in più che ci avrebbe regalato una grande gioia. Quest'anno cercheremo di migliorarci, sicuramente le squadre che andremo ad incontrare saranno agguerrite e non sarà facile per noi rifare il percorso dell'anno scorso perché oramai ci conoscono le squadre e quindi sarà un po' difficile ma noi i ragazzi in particolar modo ce la metteranno tutti. Il kick-off è per questa sera alle 20.30 allo Stadio Manzi di Barletta contro gli A.K. Crotone, già sconfitti andate e ritorno lo scorso anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.